Allora, qui abbiamo una IP camera dell'Aviosys, attenzione, sottolineo camera con la k, 9076F IPSD, long. Allora, vediamo cosa contiene questo package. Allora, qui abbiamo l'immancabile disco con l'IP edit e istruzioni e varie. Abbiamo uno scatolottino con l'alimentatore, poi c'è un sacchettino dentro, qui c'è un adattatore di rete maschio-maschio, qui il cavo di rete, e un adattatore da coassiale, da capo coassiale a capodiglio. Probabilmente anche questo userà l'antiquato uscita coassiale. Ah, e c'è ovviamente la guida rapida. Allora, dentro c'è una telecamera, che è una telecamera a cupola. Eccola qua. Questa fumola, purtroppo non si può ora rimuovere l'apertura.